Audi A3 Sportback a giugno ha debuttato con la quarta generazione, frutto del continuo sviluppo del modello, che ora mette in mostra un design che esprime il nuovo linguaggio del brand. La nuova A3 Sportback cresce in lunghezza e in larghezza, ma non in altezza, per conservare e mutata la sua natura di berlina compatta sportiva. Salendo a bordo si coglie il profondo rinnovamento di questa vettura, che va ad allinearsi nella dotazione e nei layout alle Audi più recenti. L'ambiente è raccolto, avvolgente e in ogni dettaglio si coglie l'elevata qualità costruttiva. Al centro di tutto c'è il guidatore, che grazie al combinato costituito dall'Audi Virtual Cockpit e dal touchscreen di infotainment e navigazione, ha tutto sotto controllo. Il cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti viene adesso gestito attraverso una leva di dimensioni ridottissime e occupa pochissimo spazio sul tunnel elegantemente raccordato alla console. Realizzata sulla versione evoluta della versatile piattaforma MQB, la nuova Audi A3 supporta un'ampia gamma di motorizzazioni, che nell'attuale fase di lancio è composta da motori a benzina TFSI 1.0 da 110 CV e 1.5 da 150 CV, proposto anche nella versione mild hybrid e dal 2.0 TDI, con potenze di 116 e 150 CV. A questi propulsori nei prossimi mesi si affiancheranno molte altre motorizzazioni, fra le quali una ibrida plug-in e una alimentata a metano, e saranno introdotte le versioni a trazione integrale 4.